Lasciata a Uronzo, ci dirigiamo verso la Val Vizdende, una incontaminata vallata delle Dolomiti nell'Alto Veneto, in comedico, compresa nei comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore, a 1300 metri sul livello del mare. È una delle ultime oasi naturalistiche preservate dal turismo di massa, un luogo di indiscusso pregio naturalistico circondato da maestosi boschi di abetti rossi. La valle è racchiusa fra il gruppo dei Longerin, il Monte Rinaldo e le creste di confine con l'Austria. L'unico accesso avviene attraverso una stretta gola, percorsa da una strada molto esposta agli eventi atmosferici e dalle piene del torrente cordevole che vi scorre accanto. La rete delle mulattiere e dei sentieri che percorrono la Val Vizdende danno la possibilità di ammirarla con passeggiate più o meno impegnative, sia estive che invernali, ed escursioni mountain bike. Da qui è possibile vedere il Monte Terralba, dove si trovano le sorgenti del Piave, e vivere una vacanza di completo relax, immersi nella natura con gli animali al pascolo. Purtroppo, la terribile tempesta vaia del 29 ottobre 2018 ha spezzato e sradicato migliaia di alberi secolari, modificando per sempre la morfologia della zona, con incalcolabili danni all'economia locale, basata anche sulla filiera del legno. All'ingresso in Val Vizdende è stata istituita una barriera per il pagamento forfettario dei parcheggi segnalati presenti nei vari punti su tutta la vallata. Il costo è di 5 euro per l'intera giornata. D'altra parte, siccome noi eravamo diretti all'area sosta camper La Gasperina, ci hanno fatti passare senza pagare alcun ticket. Subito dietro l'hotel-ristorante Gasperina si trova l'accesso dell'omonima aria attrezzata per camper. È molto ampia, in piano e dispone di tutti i servizi, compresa la corrente elettrica. Così, visto che con la pioggia la temperatura si era abbassata notevolmente, avevo provato ad accendere la truma in modalità elettrica a 900 Watt, ma era subito saltato il magneto termico, perché la corrente massima fornita dalle colonine è di 3 A, mentre la stufa ne assorbe tutti i 4. Ora è impostata la stufa a gas e riarmato l'interruttore. A proposito, informazioni di servizio, vi siete iscritti al mio canale? Mi raccomando, fatelo adesso, così possiamo proseguire senza pensieri. Grazie! Quando si fa da sera, abbiamo deciso di andare a cena direttamente al ristorante Gasperina, dello stesso proprietario dell'area sosta, e che pratica lo sconto del 10% sul prezzo della cena ai camperisti che vi soggiornano. Il grappino alle erbe a fine cena è gentilmente offerto dalla casa. Il mattino seguente, il cielo era azzurro e l'aria fresca è frizzante, proprio come il nostro piccolo camperista felice. La descrizione dell'area sosta è rinviata alla fine di questo video. Adesso ci prepariamo per una lunga passeggiata in valle, fino al rifugio Forcella-Zovo. Il percorso è quasi tutto su strada asfaltata, ma nei giorni infrasettimanali il passaggio dei mezzi a motore è praticamente inesistente. I panorami sono favolosi e così sarebbe stato anche tutto l'ambiente circostante, se la distruzione dei boschi causata nel 2018 dalla tempesta vaia non fosse ancora così evidente. Qui ci rendiamo conto personalmente dell'inimmaginabile violenza con la quale la tempesta si è battuta sulla montagna. Veramente la vista di tanta distruzione ci ha impressionati moltissimo, e quindi portate pazienza se esisterò a lungo con le riprese degli alberi spogliati e spezzati. Grazie. 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 Ecco, ci stiamo andando su al rifugio Forcella-Zovo. Sono 400 metri di dislivello e in tutto 6 chilometri di percorrenza, quindi è abbastanza tranquilla. Bene, dai, ci vediamo su. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.